Fremont da quando è stata lanciata ad oggi ha riscosso un grande successo in tutta Europa. Abbiamo collezionato più di 52 mila immatricolazioni e il successo continua con le nuove versioni che si aggiungono nella gamma di Fremont. L'ultima, che è quella che presentiamo qui a Francoforte, è la Black Code, che è la versione top di gamma della Fremont e che si contraddistingue per alcune caratteristiche estetiche di grande impatto. Partiamo dal frontale dove troviamo la griglia verniciata in nero lucido e lo skip plate dello stesso colore, passando invece sul fronte laterale abbiamo i cerchi in lega neri che si coordinano molto bene con lo specchietto dello stesso colore. Fremont Black Code è la perfetta risposta per la famiglia che ha voglia da un lato di farsi nuotare attraverso una vettura molto di impatto da un punto di vista estetico, ma che al suo interno ritrova una flessibilità mai vista su questo tipo di vetture. Basti pensare che sono 32 le configurazioni possibili di sedili, sedili che sono disposti su tre file, la seconda fila e la terza fila che può essere abbattuta per avere poi un piano di carico piatto, molto regolare e con un ampio vano. Ma ritrova anche tutte quelle caratteristiche di sicurezza e di comfort che sono tipiche del Fremont. Questa versione in particolare è dotata del climatizzatore trizona per permettere l'adeguato comfort anche ai posti posteriori, controllo che viene fatto anche attraverso degli appositi comandi sulle file dei posti posteriori, un navigatore satellitare con tutto il sistema multimediale con uno schermo da 8,4 pollici, cruise control e per il comfort sulla versione 4x4 abbiamo anche il cambio automatico.